A tre giorni dalla grave ondata di maltempo che ha messo davvero sott'acqua la città di Pesaro, il territorio provinciale, si sta facendo la conta dei danni sul territorio. Danni pubblici, danni privati. Danni che in qualche modo si mescolano fra pubblico e privato qui al campo sportivo comunale di Vismara. Campo completamente devastato dall'allagamento avvenuto martedì, un campo che ha una valenza sia sportiva ma anche sociale come centro aggregativo di questa zona della città. Il fosso qui dietro della Ranocchia è esondato e ha portato danni ingenti a tutta la struttura. Un campo che era stato recentemente ristrutturato, fatto in sintetico, era un campo di nuova generazione, un campo che ospitava un'attività settimanale di 200 ragazzi del settore giovanile. Più una prima squadra che quest'anno ha anche vinto il campionato di promozione e ad oggi ci troviamo a fare i conti con questa dura realtà. La dura realtà è il fatto che non possiamo proseguire l'attività, l'attività sportiva, non possiamo proseguire quella che è l'attività sociale perché qui oltre al Vismara Calcio c'è l'associazione Out che fa calcio sociale, c'è il Vismarotto, c'è una terza categoria e si allenava qui anche la Berretti della Vispesoro. Il campo, come potete vedere, è veramente devastato e questo per noi è una problematica, la problematica fondamentale. Quindi in questo momento stiamo aspettando il sopralluogo domani mattina dell'azienda che ha fatto questo campo per capire insieme al Comune quale sono state le entità dei danni e capire come affrontare questa realtà perché ad oggi abbiamo il dovere di ridare una casa sportiva a 200 ragazzi, oltre a tutte le attività che c'erano intorno a questa società. In attesa della stima precisa dei danni, qui a Vismara al danno si aggiunge la beffa, ovvero la beffa di un campo rifatto da zero appena nel 2019, appena tre anni fa, di cui uno abbondante trascorso con l'inattività da Covid, un intervento da 800 mila euro e alla prima occhiata sommare il campo è praticamente da rifare da zero. Servono aiuti, servono sostegni e si pensa anche ad una raccolta fondi. Attiveremo una raccolta fondi, una raccolta fondi perché comunque tutte le famiglie stanno venendo a bussare alla nostra porta sì per aiutarci ma anche per chiederci dove andremo, come andrà avanti questa attività. I nostri ragazzi, i nostri bambini ci chiedono di capire e noi purtroppo non abbiamo delle risposte quindi stiamo cercando di raccogliere i fondi innanzitutto per ristrutturare la struttura ma soprattutto per affiancarci al Comune in quest'opera di ristrutturazione. Voglio ringraziare pubblicamente anche le autorità comunali che sin dal primo giorno e dalle prime ore si sono fatte sentire, sono venute qui con dei sopralluoghi e comunque ci hanno fatto sentire la loro vicinanza. Questo per noi è importante, però da domani capiremo qual è l'entità dei danni e da lì sapremo anche dare delle risposte e capire come muoverci.